Davide Giuliano Sicuramente l'impegno per me è molto importante il primo anno di mondiale superbike è un impegno che se solo ci pensavo qualche mese fa mi faceva molta molta paura adesso sono consapevole che ho una buonissima squadra ho la squadra che praticamente tutti i piloti oggi come oggi lavorrebbero e ha dato questa grande opportunità a me ho l'amore campione del mondo a fianco ho un pilota che posso imparare sicuramente tanto Il campione del mondo, Carlo Streca Prima di tutto vorrei ringraziare tutti perché questo campionato, questa opportunità io direi una storia per me molto bella non è stato possibile cominciando per Tienesio ovviamente per me è stato, la definirebbe così e quello bello è che se le dà continuità una continuità che dobbiamo viverla con la stessa volia con la stessa passione con la stessa grinta e soprattutto professionalità di lavoro che abbiamo fatto e adesso quindi l'Educania Thea Racing versione 2012 grazie mille 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 Grazie a tutti.